I gioielli antichi hanno da sempre esercitato un fascino senza tempo su appassionati e collezionisti di tutto il mondo. Ogni pezzo racconta una storia unica e affascinante, intrecciando arte, cultura e storia. In questo articolo, esploreremo il mondo dei gioielli antichi, scoprendo le ragioni dietro il loro inestimabile valore e l'emozione che suscitano nei cuori di coloro che li ammirano e ne sono affascinati. Se sei un appassionato di gioielli o semplicemente curioso di conoscere di più riguardo a questo affascinante universo, continuo a leggere. 1. Storia e significato. Ogni gioiello antico porta con sé un pezzo di storia. Questi preziosi manufatti sono stati indossati dalle più nobili figure della storia, tra cui regnanti, artisti e icone di stile. Ogni pezzo è una testimonianza di un'epoca passata, riflettendo lo stile di vita, le credenze e le abitudini culturali dell'epoca in cui è stato creato. Indossare un gioiello antico è come indossare una parte del passato, portando con sé il mistero e il fascino delle generazioni che lo hanno preceduto. 2. L'artigianato e la qualità. Uno dei tratti distintivi dei gioielli antichi è l'artigianato straordinario e la qualità dei materiali utilizzati. Prima dell'era della produzione di massa, ogni gioiello veniva creato a mano da abili artigiani che dedicavano ore e giorni alla realizzazione di ogni singolo pezzo. L'attenzione ai dettagli e l'amore per il lavoro artigianale sono evidenti in ogni dettaglio di queste opere d'arte. Inoltre, i materiali utilizzati, come i metalli preziosi e le pietre preziose, erano selezionati con cura per garantire la massima bellezza e durata nel tempo. 3. Valore e investimento. I gioielli antichi sono anche considerati un investimento prezioso. Nel corso degli anni, il loro valore ha continuato a crescere, rendendoli oggetti ambiti sia dagli appassionati che dagli investitori. Poiché gli esemplari autentici diventano sempre più rari con il passare del tempo, il loro valore è destinato a crescere ancora di più. Acquistare un gioiello antico non è solo un modo per possedere un pezzo di storia, ma anche per fare un investimento che può generare rendimenti significativi nel futuro. 4. Autenticità e certificazioni. Dato il crescente interesse per i gioielli antichi, è fondamentale garantirne l'autenticità. Esistono numerosi falsi sul mercato, realizzati per ingannare i collezionisti meno esperti. Pertanto, è essenziale acquistare da fonti affidabili e ottenere certificazioni di autenticità rilasciate da esperti gemmologi o enti specializzati. Queste certificazioni attestano l'autenticità del gioiello, nonché la qualità dei materiali utilizzati. La cura e la conservazione dei gioielli antichi sono di fondamentale importanza per mantenerne l'integrità e il valore nel tempo. È consigliabile evitare l'esposizione a prodotti chimici aggressivi e indossarli con cura, per proteggerli da eventuali graffi o danni. Periodicamente, è necessario sottoporre i gioielli a controlli di manutenzione presso un gioielliere esperto per garantirne la longevità e la bellezza. In conclusione, il fascino dei gioielli antichi è intramontabile. Ogni pezzo è un ponte verso il passato, un tesoro che ci collega alle generazioni che ci hanno preceduto. La combinazione di storia, artigianato e valore rende i gioielli antichi oggetti straordinari, ambiti sia dai collezionisti che dagli amanti della bellezza senza tempo.